Bentornati su MyFootballJersey, troviamo in NBA per vedere un'altra splendida maglia. Questa è la maglia dei Phoenix Suns in versione Statement Edition per la stagione in corso. Grazie per la visione! Maglia veramente stupenda! Io ho un debole per le maglie dell'NBA, per le canotte. Questa nella mia classifica prende 4 stelle. Ottimo il tessuto, bellissimi colori. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Il costo lo vedete qui sopra. Su questo dico sempre le stesse cose, è veramente conveniente. Lascio a voi decidere cosa fare. Vi ricordo che in descrizione comunque trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi alle misure, mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. In questo modo avrete sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.